C'erano i piedi, poi non accettare il pazzerevole, non è una stessa, è una stessa, è una stessa. No, ok, è come... Non c'era il col bianco, era una persona, è una stessa. Una bella mezza. Poco spingono, spingono, spingono. Artisti, pizza, animazione per bambini, confiabili, musica e tanto altro ancora. Saranno due giorni di spensieratezza, quelli che si terranno sabato e domenica nell'area di Fosso Imperatore, in occasione del Nocerart Castle Park, iniziativa promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Coifim. Si inizia sabato 25 alle 20.30 con il groove partenopeo anni 80 di Overs Cugnizzi, seguito dal live show con Angelo Di Gennaro. Domenica 26 protagonista il gruppo Sognando Cuba, con la loro Living and Sound Experience. Chiusura con lo spettacolo di Paolo Cagliazzo, eppure sorrido. Sicuramente, è stato voluto un pochettino la predominanza della comicità, proprio per dare un sorriso alle persone, quindi nello stare insieme. Ingressi contingentati con tutte le misure anti-covid che bisogna attuare. Nessuna prenotazione, saremo attenti noi a contingentare per bene le persone. Io credo che l'inventore singolo ha giorni contati, perché in questa globalizzazione ormai si corre veloci e si è sempre più frenetici nelle attività. Poter guardare a un futuro con, non dico tranquillità, forse quello non ci sarà, ma con serenità, e guardare in modo positivo, forse quello ci vuole dare un pochettino tutti. E credo che le idee poi non nascono mai da una sola persona, nascono in un gruppo di persone.